Reggia, reggia sempre alla grande la pista di Agnano. Mezzo meccanico in movimento, 14 di 3 anni, una minima, miglio. Il 10 non corre. Si va al paletto dei 200, allineamento che va a completarsi. E anche più che buono l'allineamento. Un po' arretrato il 5 di Tessa, very nice. Tangled e Tilogale getta le prese con allargo Tenko del Ronco, problemi per il 2. Insiste, allargo il 7 di Tenko, il 2 subito a tabellone. Tilogale in seconda posizione, il lancio se ne va, 13 e 2, il 9 a tabellone. E così ora lunga fila indiana, anche il 4 a tabellone, fioccano le squalifiche. E siamo al completamento della piegata anche dei 400. Piuttosto violenti per la categoria, infatti 29 un po' di spiccioli. Ora il fratello pieno del francesino può tirare un po' i rimi in barca, prende la via del largo il 15 di Twitter. Pedinato dagli altri. Ma intanto Tenko fa buona andatura, mantiene i birilli, 45 e 1 i 600. Poi la Tilogale getta, a precede Tankle degli altri. Penultima curva, per il momento non ci sono variazioni, si fa notare Tad Pine SM numero 12, trovando chiaramente un po' di traffico. Il mezzo miglio in un 1,6, 16 e mezzo tranquilla la frazione impiegata. E di fronte sempre Tenko sul Tilogale getta, mentre si migliora Ted Pine. Il chilometro se ne va in 16,7. Tilogale sempre a filare Tenko del Ronco. I cavalli affrontano ora la curva finale. Tenta l'allungo Tenko, ma si fa notare il 14 di Torcello Lewis, anticipato da Ted Pine. Intanto Tilogale è passato, trovi il varco anche Tankle, dei cavalli al completamento e la curva finale. Tilogale ha il comando su Ted Pine. Retta d'arrivo, Tilogale allunga, ma insiste il Torcello. E Torcello con Pippotto Capasso, che sta passando nei confronti di Ted Pine e Tilogale. 14, 12, 6 e l'arrivo. Bella vittoria di Pippotto. Gli ha fatto bene a cambiare il ferro, a rimettere il ferro. Facciamo i complimenti anche al Maniscalco, che è stato bravo veramente a ricucire questa piccola inconveniente. Ma bravo Pippotto, scuderia in ordine e guida, una bella guidata decisamente. Torcello Lewis, numero 14, 3,89 euro, se non sbaglio in chiusura, è tutto. 14, 12, non male sto Ted Pine, buono per la prossima. Tilogale fa quel che può, era la piazzata, sicura.